In Prima Samuele, capitolo 17, ci viene raccontato della battaglia tra Davide e Golia. È un capitolo molto affascinante, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista educativo, istruttivo e contiene anche grandi consolazioni. Io ho già avuto modo di trattare questo capitolo più di una volta, ma oggi volevo guardarlo un po' sotto un'altra luce. Non voglio parlare della lotta tra Davide e Golia, ma voglio soffermarmi su un paio di aspetti che ritengo possono essere molto importanti anche per la nostra vita. Noi tutti sicuramente ci troviamo ad affrontare dei giganti nella nostra vita. Ogni giorno, ognuno di noi, chi in un modo, chi in un altro, avrà sicuramente delle difficoltà ad affrontare. Ecco, questi sono i nostri giganti, giganti che il Signore stesso permette che vengano sul nostro cammino. Ebbene, come possiamo affrontare il nostro gigante? Quale deve essere il nostro atteggiamento? Noi qui vediamo che Davide, sappiamo che era un pastore, un ragazzo, si presenta in mezzo a questo esercito di Israele e sente che c'è qualcuno che sta insultando le schiere delle Dio vivente. Bene, questo ragazzo si fa avanti e dice, ci penso io, dice vicino al re Saul, vado io. Allora il re Saul cerca di fargli cambiare idea, no? Dice, guarda, quello è un guerriero, tu sei un ragazzino. Allora Davide dice delle cose molto belle che noi ci ricordiamo sicuramente. Dice, il Signore che mi liberò dalla zampa dell'orso e del leone mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Questo è già un insegnamento per noi, sapete perché? Perché Davide qui nel ricordare quello che il Signore aveva fatto per lui in passato, trova la forza e la fiducia per affrontare quella determinata situazione. Quindi già qui impariamo qualcosa e cioè che dobbiamo ricordare. Davide nella sua vecchiaia scrisse un salmo meraviglioso, il salmo 103, dove dice, anima mia benedici il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Quindi è nel ricordare i benefici del Signore che noi troviamo la forza e troviamo la fiducia per affrontare poi le situazioni quotidiane. Quindi punto numero uno, cosa dobbiamo fare quando ci troviamo di fronte ad un gigante? Che può essere una malattia, un problema di lavoro, un problema familiare. Ognuno può identificare il suo gigante come vuole. Quale deve essere il nostro primo atteggiamento? Quello di ricordare. Ricordare di quando il Signore ci liberò dalla zampa del leone e dell'orso. Ricordare i miracoli che il Signore ha fatto in passato nella nostra vita. Ricordare le opere prodigiose che egli ha fatto per noi nella nostra vita passata. Ecco, il ricordare la sua potenza, il suo amore, la sua misericordia ci dà fiducia e forza per affrontare il problema quotidiano. Noi spesso siamo come il popolo di Israele. Il Signore faceva miracoli dopo miracoli, prodigi su prodigi e il popolo era sempre lì che si lamentava o perdeva la fiducia. Ecco che possiamo veramente ricordare, imprimere nella nostra mente ma soprattutto nel nostro cuore, tutto quello che il Signore ha fatto per noi nella nostra vita passata. Questo ci aiuterà ad affrontare le difficoltà e i giganti del momento. Un'altra cosa molto bella è quando il re Saul riveste Davide della propria armatura e Davide prova a camminare e poi se la toglie di dosso, dice non ci sono abituato. È molto bella quella affermazione. Sicuramente lì si trattava anche di una misura, di una taglia molto diversa da quella di Davide perché il re Saul, come sappiamo, dice la scrittura, che era più alto di tutti dalle spalle in su. Quindi se l'altezza, se la statura media di un uomo può essere un metro e settanta, allora ecco Saul era un metro e novanta di altezza, un metro e ottanta, un metro e novanta. Davide era un ragazzo, quindi sicuramente questa armatura gli stava grande addosso. Ma io però nelle parole di Davide vedo anche un altro significato. Quando lui dice non posso camminare e se la toglie di dosso e dice non ci sono abituato, ecco mi sta proprio facendo capire che lui è come se stesse dicendo io sono abituato a confidare nel Signore, io sono abituato a confidare nell'Eterno, quell'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone e dell'orso, è lui la mia corazza, è lui la mia armatura. E allora qui vediamo questo ragazzo che si spoglia. Questo spogliarsi di Davide ha un altro significato, ha proprio significato un significato spirituale e sa significare che dobbiamo anche noi spogliarci delle nostre capacità, spogliarci della nostra convinzione di saper fare, spogliarci delle nostre forze umane, materiali, carnali e dobbiamo essere rivestiti dell'armatura di Dio. Nel momento in cui Davide si spoglia dell'armatura di Saul, Dio lo riveste con la propria armatura e quindi anche noi dobbiamo toglierci di dosso l'armatura di Saul, che può essere, ripeto, possono essere le nostre convinzioni di essere bravi, di essere all'altezza di risolvere il problema da soli. Dobbiamo riconoscere la nostra debolezza di fronte ad una determinata difficoltà ed è solo allora che sperimenteremo la vera forza, la forza che viene da Dio. Notate che, lo abbiamo già detto in un'altra occasione, anche Josaphat a un certo punto nel capitolo 20 di Seconda Crona che dice noi siamo senza forza di fronte a questa moltitudine, io non so che cosa fare e allora Dio interviene con potenza. Quindi qui vediamo già due cose importanti, ricordare quello che Dio ha fatto per noi e spogliarci delle nostre capacità, spogliarci dell'armatura di Saul, spogliarci della nostra convinzione di essere all'altezza di risolvere le cose da soli. Abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno della sua armatura per abbattere i nostri giganti e l'armatura di Dio la possiamo indossare solo se ci spogliamo dell'armatura di Saul. Ora ognuno di voi può associare l'armatura di Saul, potete fare gli accostamenti che volete, a volte l'armatura di Saul rappresenta anche quando noi confidiamo nell'aiuto dell'uomo. Qui il re Saul mise a disposizione la sua armatura, era un modo per partecipare alla battaglia, ma Davide voleva che la gloria andasse solo a Dio. Se Davide avesse abbattuto Golia grazie anche all'armatura del re qualcuno avrebbe potuto dire Davide ha ucciso Golia grazie all'armatura del re, invece Davide voleva dare tutta la gloria a Dio, quindi si spoglia completamente e questo dobbiamo fare anche noi, spogliarci della nostra religiosità, del nostro religiosismo, delle nostre capacità umane, della nostra convinzione di essere all'altezza di un problema. Abbiamo bisogno di Gesù per abbattere i nostri giganti e abbiamo bisogno di rivestirci dell'armatura di Dio, così come è scritto in Efesini 6.10 e i versetti a seguire. Andiamo all'ultimo punto di questo capitolo. La scrittura dice che Davide dopo che si spogliò raccolse cinque pietre ben lisce nel torrente e avanzò contro il gigante Golia. Mi ha fatto sempre riflettere molto questo passaggio perché la scrittura ci specifica anche che le cinque pietre erano ben lisce, non delle pietre deformi o con delle protuberanze strane, ma erano ben lisce. Perché Davide scelse cinque pietre ben lisce? Io sono andato a fare delle ricerche e ho trovato una cosa molto bella. Praticamente la fionda che usava Davide, sappiamo la fionda non quella con le forcette che conosciamo noi, ma quella proprio ebraica, quella che ha bisogno di essere girata, c'è un piccolo fodero dove si mette dentro la pietra e poi si lancia. Ecco per avere una traiettoria precisa la pietra doveva essere ben liscia. Se all'interno del fodero della fionda si mette una pietra che non è ben liscia, ecco nel lanciarla può deviare, può cambiare direzione. Invece se la pietra è ben liscia mantiene dritta la traiettoria. Quindi qui vediamo che Davide se le sceglie proprio accuratamente queste cinque pietre in modo da poter diciamo colpire il bersaglio e portare ad effetto il motivo, lo scopo per cui è stata lanciata. E mi ha fatto riflettere molto il fatto che queste pietre fossero ben lisce. Una pietra per diventare liscia in un torrente ci vogliono anni, a volte secoli. Lo scorrere dell'acqua sopra e sotto la pietra ha fatto in modo che questa pietra diventasse liscia sia sotto che sopra. Però questa levigatura della pietra non avviene in tempi brevi, ci vogliono degli anni, decenni, probabilmente dei secoli. E allora io ho pensato bene su questo particolare, ho detto guarda un po', il Signore aveva già preparato cinque pietre per Davide per il giorno della battaglia. Quelle pietre furono messe dal Signore in quel torrente secoli prima. Il Signore sapeva già che un giorno Davide avrebbe dovuto affrontare un gigante e che avrebbe avuto bisogno di cinque pietre ben lisce. E fu Dio stesso a levigare quelle pietre con l'acqua, con lo scorrere del tempo. E allora qui vediamo proprio la provvidenza di Dio, una provvidenza che Dio mette a nostra disposizione nel momento del bisogno. Le cinque pietre rappresentano, il cinque rappresenta il numero della grazia e quindi le cinque pietre rappresentano l'abbondanza. E allora noi vediamo qua una grazia abbondante nei confronti di Davide. Dio gli dona, diciamo così, il necessario per affrontare non un gigante ma cinque giganti. Davide avrebbe potuto colpire cinque giganti con quella fionda, con quelle pietre. E noi sappiamo che il gigante era uno e Dio gli provvede delle risorse in abbondanza. Dio provvede in abbondanza. Quindi, e concludo questo pensiero, in questo capitolo noi vediamo l'importanza del ricordare. Ricorda, ricorda quello che Dio ha fatto per te, né ricordare quello che Dio ha fatto per te, ritroverà le forze per affrontare i giganti di oggi. E poi spogliati, spogliati delle tue capacità, delle tue risorse, della tua convinzione di potercela fare senza Dio. Spogliati dell'armatura di Saul e rivestiti dell'armatura di Dio e poi scegli la tua pietra e affronta il tuo gigante. E ti avanzeranno quattro pietre per affrontare altri quattro giganti. E noi vediamo che Dio, di fronte alla difficoltà, ci dà le risorse e le soluzioni in abbondanza. Le cinque pietre rappresentano la grazia abbondante di Dio nella nostra vita, rappresentano la provvidenza abbondante di Dio per affrontare le nostre difficoltà. Quindi non ci scoraggiamo, non ci avviliamo, non ci abbattiamo, perché non abbiamo le risorse per affrontare solo un problema, ma abbiamo le risorse per affrontare cinque problemi. E di fronte magari oggi ne abbiamo uno, però Dio ci dà cinque volte tanto per affrontare quella difficoltà. Impariamo. Fratelli, Dio, così come aveva provveduto secoli prima per quelle pietre per Davide, Dio ha provveduto secoli fa per darci la vittoria contro il nostro gigante di oggi. E ve lo dice uno che sta affrontando dei momenti difficili. Non parlo solo per parlare, parlo per esperienza. Abbiamo dei giganti davanti a noi e Dio ha provveduto secoli fa del necessario delle risorse per guardare in faccia quel gigante ed abbatterlo nel nome dell'Eterno, nel nome dell'Eterno degli eserciti. Questo è il nostro Dio, un Dio che non si distrae, un Dio che non ci abbandona, un Dio che non ci lascia mai soli, un Dio che permette il gigante nella nostra vita per manifestare la sua gloria nella nostra vita, un Dio che vuole manifestare attraverso la nostra vita quando è potente. E allora ricordiamo, ricordiamo le opere del Signore, ricordiamo l'importanza di spogliarci di noi stessi, di spogliarci del nostro io, rivestiamoci di Cristo, rivestiamoci dell'armatura di Dio e poi prendiamo le cinque pietre dal torrente e andiamo contro il nostro gigante anche oggi e gli diciamo io vengo verso di te nel nome dell'Eterno degli eserciti e nel nome del Signore avremo la vittoria. Confidiamone Signore e spero che queste parole possano radicare nel nostro cuore e portare frutto per la gloria di Dio e per la nostra gioia. Un abbraccio a tutti. Grazie.